Daniele Persegani e Franca Rizzi riaccendono i fornelli su Gusti Incanto TV. A cucinare comincia tu! La loro sintonia ormai consolidata, i loro battilecchi, le ricette di Daniele Persegani, l'atmosfera di casa, fanno di questi due protagonisti gli amici della TV più attesi nelle case degli italiani. Con Franca Rizzi conduttrice esperta, appassionata, curiosa, spalla insostituibile e Daniele Persegani con la sua simpatia travolgente, la sua irriverenza, il suo accento emuliano e le sue ricette accattivanti, si ricompone la coppia televisiva in cucina per eccellenza. Con Daniele Persegani e Franca Rizzi ritorna il buon umore nelle case degli italiani, senza perdere mai di vista le ricette, che come ci ha sempre abituati Daniele, sono facili, buone, economiche, alla portata di tutti, per tutti i palati. A cucinare, comincia tu, il programma che fa bene all'umore, su Gusto Incanto TV.